Benvenuti, sono Antonio Ferrero, il direttore artistico dell'Associazione. La nostra associazione ha come unico scopo la diffusione dell'arte e della recitazione teatrale, cinematografica e del doppiaggio. Pertanto si occupa in modo approfondito di dizione e musicalità del dialogo. La recitazione teatrale e cinematografica sono forme d'espressioni creative, pertanto esperienze di sperimentazione e ricerca. Il nostro obiettivo è creare dei professionisti, o nel caso in cui svolgano altre professioni, degli artisti amatoriali ma con competenze professionali. La nostra scuola permette di confrontarsi con contenuti culturali, sviluppare memoria, creatività e senso dell'umorismo. I metodi di insegnamento utilizzati si avvalgono delle migliori tecniche messe a punto dai grandi maestri, partendo da Orazio Costa, uno dei massimi esponenti della pedagogia teatrale del Novecento. Tramite la barra di navigazione dove c'è l'intestazione o più in basso nella pagina, avete la possibilità di ottenere le informazioni didattiche sui corsi per adulti, junior oppure online. Qualora vogliate visionare l'intero regolamento dell'associazione con relativi costi d'adesione, andate alla pagina a contatti. Potrete inviarci un'email tramite il form. In seguito riceverete il modulo contenente tutte le informazioni in modo completo e approfondito. Grazie e buona navigazione!